La mattina siamo svegliati, un bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la mattina siamo svegliati, ho trovato l'invasore, questo io muoio, un partigiano, un partigiano, un partigiano. Quello che noi facciamo qui è accompagnare i palestinesi nelle loro attività quotidiane, in questa loro resistenza quotidiana che è fatta di azioni normali come può essere appunto andare a pascolare le pecore o per un bambino palestinese venire a scuola senza essere attaccato dai coloni. E loro sono contenti che noi siamo qua perché di fatto la non violenza, che è la scelta che questo villaggio ha fatto, è una scelta che ha bisogno di sostegno per essere portata avanti perché effettivamente nella quotidianità è veramente difficile perché il livello di conflitto e di tensione è quotidianamente alto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.